Fun! Numbers! Cos'è questo baccano? Mani in alto, stronzo! Kermit, mettila via quella! Ma ho sentito un rumore inquietante, Cell! È solo Rex! Rex per maladro! Ehm, non credo si tratti di un ladro, Rex! È qui per lottare con me! No, razza di idiota! È qui per consegnare dei regali! Ma piuttosto si ritrova primo di sensi! Come facciamo a spiegarlo a Charlotte? Beh? È morto? Cosa? Babbo Natale! Ti sembra morto? Io credo che stia respirando! Ah, ci voleva proprio! Beh, d'accordo! Andiamocene prima che... Ah, merda! Dannazione! Grandioso! Ormai ci ha visto in faccia! Ora deve morire! Kermit! D'accordo! Piano B! Prendila, Rex! Ragazzi, ma che cazzo? Si può sapere che succede? Charlotte, sono le tre di notte e non mi va di sentire le tue cazzate! C... Come prego? Amico, tu sei il mio ospite! Questa è la mia casa! Allora prendi la tua fottuta cioccolata e tornatele al letto! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ah brucia cazzo! Bruciaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Ciao ragazzi! Se anche questo video vi è piaciuto mi raccomando Mettete il solito polliciazzo su E lasciate un commento qui sotto Ci avviciniamo al Natale